C'era una volta Giove, il padre degli dèi. Giove re si trasformava così in fretta e così spesso che talvolta e me scambiava per un altro anche se stesso. Splendore dell'Olimpo, c'era una volta. Splendore di oggi, c'era emulsio. Per la vita dei vostri pavimenti, c'era emulsio. In un solo flacone la c'era per ogni tipo di pavimento. Con cera emulsio, il piacere di dare la cera. E calze asciugamani di marca in regalo. E tanta luce, più luce in casa con marga vetro. Per bacco, sono prodotti marca.